ciao a tutti oggi prepareremo le lingue di gatto il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono farina di tipo doppio zero burro morbido albumi zucchero semolato e vanillina diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungerei il burro morbido azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere gli albumi la vanillina e la farina azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4 il composto è pronto trasferire in una sac à poche con il beccuccio liscio abbiamo riempito la sac à poche adesso formeremo dei bastoncini da 6 cm di lunghezza cuocere in forno preriscaldato statico a 190 gradi per 8 minuti circa o fino a doratura lingue sono cotte lasciamole intiepidire prima di servire lingue di gatto grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti